Sono Attilio Bonanomi, della serigrafia Bonanomi. Da decenni produciamo stampe personalizzate per moda e abbigliamento sportivo. Nel periodo della pandemia abbiamo pensato di riconvertire l'azienda producendo mascherine, mascherine personalizzate. Ciò ha permesso ai nostri dipendenti di poterla riprendere a lavorare, a tutta la filiera di continuare a lavorare e a riprendere un po' di quell'ottimismo perso. Ciò dimostra che l'imprenditoria lombarda, con le proprie intuizioni, le proprie capacità e volontà, è in grado di affrontare anche le sfide più difficili.